C'era questa offerta di questo personaggio e finalmente ho comprato un personaggio nuovo Certo che è un po' lento Vediamo se riesco a restare la galla in internet senza dover crescere E senza aver paura che mi tolga internet wind Tanto che sono ancora in osservazione di wind Vediamo se mi dà il matching della partita Qualcuno sta guardando Chi è? Sta guardando? Subito non sono arrivati, immediatamente Sarà wind o sarà un giocatore normale? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Capacera. Dicevo, tu che mi guardi, sei un essere umano, oppure sei un bot, oppure sei Wind che guarda quello che sto facendo, perché mi hanno detto che mi stanno osservando, praticamente stalking, e praticamente vedono quello che sto facendo, le live su Twitch, nulla di illegale. Dove fitte l'altro, o cazzo, o cazzo. C'è questi cortelli che lei ha, poverina nostra specie. Questi cortelli che lei ha, praticamente, su... Su Cod si sarebbero utilizzati, si dovrebbero utilizzarli, mentre su... Mentre qua su Fortnite si sono come Dejure, come abbellimento. Oddio, che lo sto uccidendo? No, ma sono in due. Ecco, perfetto, siamo morti. Sì. 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 I'm going to kill him 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 solo per via di wind che è minaccia cioè non è wind che è minaccia ovviamente ti diplomazia del minchia è morto già che palle e che palle in un colpo mi ha messo a capo è morto Niente male questa modalità Non morire, non morire Ma la pusha, non è brutto L'hanno pushato di tutto Bene, benissimo Allora per paura di win che mi tolga internet perché dicono che sto abusando della loro linea Anche se pago, ovviamente Non posso fare tante live Mi hanno detto, navigo in modo normale come tutti Quindi devo evitare i scaricamenti come Apex, come Legend, come Fortnite Oppure come God E non so cosa fare Mi sento in una posizione che non so come muovermi Senza internet non posso stare Con internet che mi danno questi divieti di non fare certe cose E' impossibile Quindi non so che cosa fare Non posso mica interrompere l'arcosia all'improvviso Senza Un motivo insomma E non so come comportarmi Quindi per adesso Chiudo qui Purtroppo Chiudo qua purtroppo Vediamo Come lì dall'altra parte Vediamo come la rete Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.